stai diventando grande sai io sono un limbo di quattro anni o poco più esploro il mondo yokai ho sempre un grande a far guardo per imparar ciò che sta intorno a me kai guardo colori e insetti volar scoprirò il mondo con mamma e papà pian piano crescerò freddaio non ne ho gioco imparando io kaiu, 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 kaiu sono io una volta per una kaiu, non correre non ci aspettano prima delle tre e quindi abbiamo ancora tutto il tempo ma kaiu non vedeva l'ora di arrivare al parco per giocare con tutti i suoi amici cosa? questo cartello dice che il parco è chiuso oggi perché mamma? stanno mettendo il fertilizzante sui prati per far crescere meglio l'erba ciao clementina oggi non possiamo giocare nel parco perché è chiuso oh no la delusione era generale ma voleva giocare a qualunque costo con i suoi amici mamma possiamo far venire tutti a giocare a casa nostra? per favore, per favore, per favore beh il nostro giardino forse non è molto grande ma certo, falli venire pure tutti evviva facciamo chi arriva prima costruiamo un bel castello di sabbia kaiu ci teneva molto ad utilizzare il suo secchiello preferito ma sapeva che quando si invitano gli amici bisogna dividere i giocattoli ma qui ci sono soltanto due palette beh possiamo fare dei turni stai attento Jeffy ma io così non mi diverto in effetti l'amichetto di kaiu non sembrava divertirsi granché ma kaiu voleva assolutamente finire il castello io vado a giocare all'altalena per favore posso salirci io adesso? no, noi non abbiamo voluto costruire il castello di sabbia sentite dobbiamo fare anche qui dei turni ma non è giusto avevamo appena cominciato a giocarci senti mamma io voglio che vadano tutti a casa adesso ma che cosa succede? non vi state divertendo? non voglio fare i turni sull'altalena allora perché non proponi qualcosa a cui possiate giocare tutti quanti insieme? kaiu conosceva un gioco che certo sarebbe piaciuto a tutti sentite ragazzi vogliamo giocare a rincorrerci sì, sì, bello, certo una patata, due patate, tre patate, quattro, emm cinque patate, sei patate, sette patate, fuori kaiu era così felice del fatto che i suoi amici si stessero divertendo tanto non mi prendi, non mi prendi sentite ragazzi adesso che cosa ne direste di uno spuntino? evviva quando avrete finito sarà ora di tornare a casa no mamma noi vogliamo giocare un altro pochino domani il parco sarà aperto e potrete incontrarvi tutti lì evviva lezioni di pattinaggio brum 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 ciao ciao kaiu, a che cosa stai giocando? sto volando sull'aereo che mi ha fatto oggi mio padre, non lo vedi? perché hai i pattini da ghiaccio? la tua mamma mi accompagnerà alla lezione di pattinaggio ma non si può pattinare d'estate tesoro, vuoi fare una passeggiata con noi? certo aspetta kaiu, mettiti questo giubbottino perché fa freddo lì dentro la mamma aveva ragione, anche se era piena estate faceva un gran freddo dentro quello strano palazzo oh mamma è come se fosse ancora inverno qui dentro allora ci vediamo sulla pista che cosa ci fanno con i pattini da ghiaccio in questo posto mamma? vedi kaiu dentro questo palazzetto si può pattinare su ghiaccio per tutto l'anno ma il ghiaccio non si scioglie d'estate no, questa è una specie di frigorifero gigante vieni, ti faccio vedere il nostro amico era meravigliato conosceva solo il ghiaccio dei laghetti in inverno kaiu, perché non vieni a pattinare con me quando avrò finito la lezione? ma io ci ho provato soltanto una volta prima d'ora qui ci sono dei bravissimi istruttori e potranno insegnarti in pochissimo tempo guardami che forza ci vediamo più tardi, d'accordo? mamma, io potrei imparare come sora se prendessi delle lezioni di pattinaggio ma certo ti piacerebbe se ti iscrivesti ad un corso? sì, per favore, per favore qualche giorno dopo prese la sua prima lezione di pattinaggio ciao, tu devi essere kaiu io mi chiamo george e sarò il tuo istruttore, contento? ciao george comunque guarda che io so già come si pattina meglio così allora ci divertiremo moltissimo ma tu non dimenticare il caschetto va bene sentiamo, chi vuole imparare a pattinare? io, io, mamma allora venite tutti con me vieni anche tu, mamma no, io non ho i pattini ma resterò qui a guardarti sta tranquillo sapete imparare a pattinare è un po' come imparare a camminare e quindi qualche volta sei caduto per terra sì, può succedere ma non è certo un problema perché poi mi rialzo subito coraggio adesso mettetevi sulle ginocchia come faccio io ora poggiate un piede a terra spingete e poi alzate anche l'altro piede è facile, avete visto? ah, magnifico, avete già imparato la prossima fase è ancora più facile dovrete camminare tra questi coni e ritornare sul tappeto bene, che cosa ne dici di iniziare tu, Caillou? ma io ho imparato a pattinare con la mamma qui non ti servirà, vedrai adesso cammina verso di me non preoccuparti ora rialzati come ti ho fatto vedere io ottimo lavoro, Caillou e adesso provateci anche voi potete tornare sul tappeto e anche tu, Caillou incominciava a scoraggiarsi pattinare sul ghiaccio era più difficile di quanto avesse immaginato non preoccuparti è normale che si cada all'inizio ma adesso riproviamoci, d'accordo? allora, ti è piaciuta la tua prima lezione, Caillou? mi si sono bagnati i pantaloni per quante volte sono caduto certo, ma considera che è quello che è successo a tutti noi e comunque tutto questo ti dà anche diritto a mettere il tuo primo adesivo sul tuo caschetto allora ci vediamo domani, mi raccomando mamma, perché io non sono bravo come Sara? oh, ma ci vuole tempo tesoro sono sicura che Sara abbia preso molte lezioni per arrivare al suo livello io non voglio tornare qui anche domani pomeriggio non farti scoraggiare questa è stata solo la tua prima lezione domani andrà molto meglio, vedrai che forza, guarda quel bel camioncino mamma sta andando sul ghiaccio sta facendo la manutenzione tesoro vedi tutta l'acqua che lascia dietro? servirà a creare un nuovo strato di ghiaccio che cosa è successo al tuo aereo Caillou? non è più un aereo mamma è il camioncino per fare il ghiaccio nuovo guarda là dietro bip bip adesso farei meglio a parcheggiare o faremo tardi per la tua lezione ma devo proprio venire ascolta io direi di fare un altro tentativo e se non ti piacerà potrai anche smettere d'accordo? e poi ci sarà sempre quel bel camioncino il camioncino evviva ciao Caillou mi fa piacere che tu sia tornato abbiamo una ragazza nuova che ne diresti di insegnarle i primi passi ah non preoccuparti anche io cadevo di continuo per terra ma l'importante è imparare a rialzarsi sei pronta? tu potresti diventare veramente un ottimo istruttore lo sai? andiamo oggi faremo dei nuovi esercizi evviva questo è tutto per oggi ma sappiate che siete stati davvero tutti bravissimi allora ci vediamo domani ciao a domani Caillou si era divertito in quella seconda lezione e non avrebbe più voluto andarsene dobbiamo proprio andare via mammina certo ma ritorneremo domani tesoro e poi qui c'è qualcuno che vorrei farti conoscere Caillou questo giovanotto è Harry è lui che guida il camioncino ciao Caillou senti che ne diresti di venire a fare un giretto sulla pista con me? ma dici sul serio? per Caillou fare un giro su quel camioncino si rivelò divertente quasi quanto imparare a pattinare e a quel punto c'era un'ultima cosa che avrebbe voluto fare Caillou fa il cameriere guarda mammina ho fatto il ritratto di Julie oh ma è bellissimo Caillou Caillou era felice perché quel giorno Julie sarebbe venuta a fare la babysitter dove andate tu e papà stasera? papà mi porterà a mangiare al ristorante posso venire anch'io? no stavolta no tesoro ciao Caillou ciao Julie guarda questo è un disegno per te grazie è veramente bellissimo lo sai? la cena è pronta nel forno noi comunque dovremmo tornare per le dieci e mezza voglio venire anch'io a me piace mangiare al ristorante vedrai che sarà divertente mangiare qui con Julie e poi mamma ti ha preparato la tua cena preferita gli spaghetti no io non ci credo proprio che mi divertirò ciao Rosy ciao Caillou ciao ciao Caillou allora vuoi aiutarmi a preparare la tavola? va bene ma io avrei preferito mangiare al ristorante vuoi giocare? ho avuto una grande idea Caillou perché non ci facciamo il nostro ristorante qui in casa? d'accordo anche Rosy Caillou si stava divertendo moltissimo aveva già il menù illustrato ed era vestito come un cameriere di ristorante io mi domando perché ci mette tanto questo cameriere anche Rosy sto arrivando sembra tutto molto appetitoso ma questo non riesco proprio a resistere quel piatto costa 4 dollari grazie mmmm yummy no Rosy a te non piacciono i fagioli e poi stasera abbiamo soltanto gli spaghetti 4 dollari grazie grazie no oh d'accordo allora uno solo adesso posso fare io il cameriere ma certo allora che cosa preferisce signore? mi porti pure un piatto di spaghetti grazie vada per gli spaghetti allora sono soltanto 4 dollari signore ma io non ho soldi giuli se non puoi pagare il conto allora mi dispiace dovrà lavare i piatti ma per questa volta faremo un'eccezione nooo no giuli io voglio lavare i piatti tutto questo lavoro gli aveva fatto venire una gran fame sono felice di non essere andato al ristorante con mamma e papà è stato molto più divertente mangiare qui il gioco a premi caillou stava cercando dappertutto uno dei suoi giocattoli preferiti mamma mamma io non riesco più a trovare il mio trattore mi dispiace ma io non l'ho visto in giro forse se mettessi in ordine la tua stanza riusciresti a trovare quello che stai cercando vedrai salterà fuori una volta che avrai rimesso tutto in ordine ah d'accordo il mio aereo mamma mammina guarda era sotto una delle mie magliette perché non usi il tuo trattore per raccogliere tutto quello che c'è per terra nella tua stanza così almeno non rischierai di fare pasticci si adesso vado ho un'idea che potrebbe far diventare divertente anche rimettere in ordine sul serio per prima cosa dobbiamo fare un cartellone e poi delle figurine posso colorarle io? sicuro vado a prendere i miei pastelli ogni volta che rimetterete in ordine qualcosa incollerete qui una figurina guarda questa che bella bella caillou era felice di aver aiutato la mamma a fare quelle belle figurine e non vedeva l'ora di poter incollare la prima sul cartellone io ho finito mamma guarda oh oh ci penso io mamma no rosy ottimo lavoro a questo punto hai guadagnato la tua prima figurina allora allora prendo questa qui adesso vediamo un po' coraggio è ora di lavarsi bene i denti va bene così? sei un vero campione hai guadagnato un'altra figurina guarda la prossima che prenderò sarà questa mamma è la più grande di tutte ci vorrà qualcosa di speciale per meritarsi quella a te viene in mente niente? no mi dispiace ma non mi viene in mente niente vediamo raccogliere vestiti per terra potrebbe già essere un'idea tu conosci un posto dove ce ne sono tanti? la mia stanza grazie rosy guarda mamma ho rimesso in ordine la mia cameretta tutto da solo anche rosy bravo questo merita un premio speciale a me piace aiutare la mamma che cosa mi metto? guarda mamma io sto facendo girare la testa al latte molto bene ciao era la nonna che ci ha invitato per questa sera per festeggiare il loro anniversario di matrimonio una festa! ci saranno la torta e i regali? dai andiamoci subito papà ma scherzi c'è tutta la giornata davanti a noi e poi tu non sei ancora vestito mamma adesso mi puoi aiutare a vestirmi? tesoro sei grande abbastanza per cominciare a vestirti da solo sul serio? è semplice scegli un paio di mutandine, i calzini, una maglietta e un paio di pantaloni Caillou decise di scegliere la maglia con le scimmiette ma gli piaceva anche quella rossa che gli aveva regalato la nonna il nostro piccolo amico si divertì talmente a scegliere i vestiti che dimenticò completamente di vestirsi Caillou sei pronto per andare a giocare fuori? no ecco io sono quasi pronto papà oggi sono riuscito a vestirmi da solo guardami guardami si lo vedo aspetta un minuto due magliette ottima scelta ma non credi che fuori faccia un po' troppo freddo per uscire in pantaloni corti io potrei anche sbagliarmi ma perché non andiamo un po' a controllare no fa caldo io... senti potresti mettermi qualche altra cosa ma si certo ehi ma c'è stato un terremoto qui dentro dove? ecco mettiti dei pantaloni lunghi e un maglioncino d'accordo? con questi starai più caldo io torno tra cinque minuti va bene ma che cosa... dove sei Caillou? eccomi qui ottimo lavoro ma ho proprio paura che tu ti sia messo quei pantaloni al contrario ma è così che mi piacciono d'accordo ma adesso li mettiamo tutto a posto va bene? più tardi quel giorno arrivò il momento di mettersi dei vestiti un pochino più eleganti che ne dici di questo completo? ti piace tesoro? gli piaceva quel completino ma voleva continuare a scegliere da solo cosa indossare no io voglio mettermi questo d'accordo ciao Caillou sei davvero molto elegante lo sai? ho saputo che oggi ti sei vestito da solo bravo notò subito che il nonno e il papà erano molto belli con i loro vestiti della festa e di colpo ebbe dei dubbi sulle sue scelte senti papà posso cambiare di nuovo i vestiti? certo vedi questo è uno dei tanti vantaggi di sapersi vestire da solo nonno per favore mi insegneresti a fare il nodo della cravatta? ciao ciao ciao